Ok, buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi degli Istituto Beccari, siamo qui oggi e forse per la prima volta durante queste ore di formazione che avrete fatto, ci rivolgiamo direttamente a voi e grazie per aver saputo cogliere sicuramente degli stimoli interessanti dai percorsi che Libera Piemonte vi ha presentato in cose ecco fatte in contesti diversi, oggi i protagonisti di questo incontro siete proprio voi, va bene, proveremo a partire appunto dal tema generalissimo dei beni confiscati sino ad arrivare a capire che cosa ciascuno di noi può effettivamente fare per il monitoraggio di questi beni confiscati stessi, infatti questo è proprio il tema del giorno, se abbiamo parlato in generale di beni confiscati nelle altre volte, oggi con Tatiana Giannone e Riccardo Falcone di Libera proveremo del settore beni confiscati di Libera, ci racconteranno anche loro come sono arrivati a lavorare su questi temi, proveremo proprio a capire che cosa significa monitorare questi beni confiscati, ma proveremo a farlo anche nelle forme di una chiacchierata per essere meno noi possibili, proviamo a tenervi svegli durante questo poco tempo insieme. Io sono Leonardo Ferrante dell'associazione Gruppo Abele e di Libera mi occupo specificatamente di un progetto che si chiama COMMON, che è acronimo di comunità monitoranti, ma COMMON significa anche beni comuni, ecco uno di questi beni, un bene a cui noi teniamo particolarmente per la storia di Libera sono proprio i beni confiscati. L'idea è anche capire come poter monitorare da cittadini normali questa particolare forma di bene comune che appunto sono i beni confiscati. Però ecco, prima di cominciare c'è sempre questo problema che noi, soprattutto noi che ci lavoriamo tanto, diamo sempre quel scontato che cosa sono questi benedetti beni confiscati. Quindi ecco, comincerei a chiedere a te Riccardo, anzitutto di presentarti, come mai lavori in Libera, come mai lavori sui beni, come ci sei finito a lavorare ad una cosa strana di questo tipo, da piccolo pensavi che avresti lavorato sui beni confiscati, non lo so. Ecco, e quindi poi che cosa sono questi benedetti beni confiscati? Ciao Leonardo, ciao a tutti, grazie per questa opportunità di incontro, di approfondimento, è per me un piacere poter fare questa chiacchierata con voi e condividere i contenuti di questa chiacchierata con le ragazze e i ragazzi che ci ascoltano e che ci ascolteranno. Non pensavo di finire a lavorare sui beni confiscati, ma insomma c'era comunque dentro la mia vita una sorta di vocazione naturale, se possiamo dirla così, all'impegno sociale, all'impegno civile ed è questa vocazione naturale che mi ha spinto ad incontrare Libera, un'esperienza che è nata anche grazie all'incontro con i familiari delle vittime innocenti della Camorra. Io sono campano, vivo in provincia di Salerno e da quell'incontro è nata poi una strada comune percorsa insieme a tante compagne e compagni di viaggi di Libera, con il tempo poi ho un po' approfondito gli aspetti anche dal punto di vista dello studio, è teorico diciamo così, legati al tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati, come capite in Campania è una frontiera immediata, di avanguardia nella lotta alla criminalità organizzata e quindi poi con il tempo sono finito a lavorare in maniera più specifica su questi temi, che sono temi naturalmente che mi appassionano molto certo perché dal riutilizzo sociale dei beni confiscati, dalla capacità dello Stato attraverso tutti i soggetti che sono coinvolti in questa filiera e che fra poco proveremo a capire insieme un po' meglio come funziona, ecco da questa capacità dipende in maniera molto concreta la credibilità dell'azione dello Stato nel contrasto alle organizzazioni criminali e mafiose sui territori. Vi posso dire subito, poi lo capiremo meglio, che davvero tra tutte le misure, e sono tante, tutte importanti, che lo Stato mette in campo per contrastare le mafie, quella della confisca e del riutilizzo sociale dei beni confiscati ha un particolare valore, ha una particolare, mi viene da dire potenza, potenza perché incrocia varie dimensioni, la dimensione repressiva sicuramente, ma poi c'è una dimensione politica, quando lo Stato interviene, toglie i beni ai mafiosi e li restituisce alla collettività, afferma un principio di legalità, no? Di legalità democratica e dice ai cittadini abbiate fiducia nelle istituzioni della Repubblica. C'è poi una dimensione economica molto importante perché restituire questi beni alla collettività sotto forma di servizi e di altre cose che vedremo, significa far circolare ricchezza, una ricchezza alternativa a quella criminale mafiosa, significa creare posti di lavoro, significa far circolare appunto una ricchezza pulita, onesta, dare anche dignità, lavoro alle persone e poi c'è una dimensione culturale, sociale, educativa. Per il solo fatto di esistere i beni confiscati che vengono restituiti alla collettività e che vivono in una dimensione totalmente opposta a quella che avevano in precedenza, rappresentano veramente un baluardo dal punto di vista culturale, significano che la lotta, la guerra, le mafie è una lotta, una guerra che possiamo vincere e che vinciamo naturalmente soltanto se ognuno fa la sua parte. Se mi consenti di approfondire velocissimamente, no? Gli aspetti un po' più tecnici, lo farò nella maniera più semplice di cui sono capace. È una storia che è data un po' di anni, quella del riutilizzo sociale dei beni confiscati, ma neanche tanti. Siamo intorno ai 25-26 anni di storia di questa legge 109 del 96, che è un po' la legge fondamentale, il presidio fondamentale a garanzia dell'utilizzo sociale dei beni confiscati. Quindi non tantissimi anni fa, eppure in così pochi anni, 25-26 anni, noi siamo riusciti a registrare, a vedere, a toccare con mano una vera e propria rivoluzione che abbiamo costruito sui beni confiscati. Tantissimi luoghi che prima appartenevano ai clan e quindi erano il simbolo del potere criminale e mafioso sul territorio, sono stati loro sottratti e sono stati restituiti alla collettività sotto forma di servizi, di luoghi di cultura, di luoghi di aggregazione, di luoghi di accompagnamento alle persone che fanno più fatica. E se questo avviene è perché siamo riusciti a dare concretezza a un sogno, un sogno di una persona a cui noi tutti vogliamo molto bene, nonostante non ci sia più da un po' di anni. Questa persona era Piola Torre, era un politico Piola Torre, anzi nasceva come sindacalista, lui era siciliano, conosceva molto bene la mafia, aveva fatto la battaglia accanto ai contadini, ai braccianti per la dignità del lavoro contro la mafia e quindi da sindacalista passa poi all'impegno politico, diventa a un certo punto deputato della Repubblica, entra, fa parte della commissione parlamentare antimafia e in quella sede comincia a lavorare ad una intuizione che lui aveva avuto, un'intuizione davvero straordinaria per il tempo, poi parliamo della fine degli anni 70, inizio degli anni 80. Piola Torre sostanzialmente capisce che per fare veramente male alle mafie, lui che le conosceva molto bene, non bastava, per quanto fosse importante naturalmente, arrestare i mafiosi, quindi limitare la libertà delle persone che appartenevano alle organizzazioni mafiose, ma bisognava andare a colpire il vero e unico grande interesse delle mafie che naturalmente, come i ragazzi e le ragazze che ci ascoltano capiranno senz'altro, sono i soldi, è la ricchezza, i patrimoni, appunto i beni, le cose che hanno un valore materiale. Piola Torre capisce questo, si mette al lavoro su una proposta di legge che contiene anche un altro elemento rivoluzionario. Fino al 1982, anno in cui poi questa intuizione di Piola Torre divenne legge, ve lo dirò fra un attimo, non esisteva tecnicamente in Italia la mafia, perché non esisteva un articolo del codice penale che potesse punire i mafiosi in quanto mafiosi e non in quanto criminali comuni. Ecco, Piola Torre si mette al lavoro, insieme all'allora ministro dell'interno Virginio Rognoni, ad una legge che contenesse questi due elementi veramente rivoluzionali che capovolgevano il tavolo rispetto al tema della lotta alla mafia. A Piola Torre però non fu data la gioia di vedere approvata questa legge, perché Piola fu assassinato a Palermo il 30 aprile del 1982 e per la verità non bastò neanche la morte di Piola Torre perché il Parlamento finalmente approvasse la legge che gli aveva materialmente scritta. Dobbiamo aspettare purtroppo un altro omicidio tra virgolette eccellente, avvenuto ancora a Palermo il 3 settembre del 1982, quello del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, perché finalmente il legislatore, quando dico legislatore voi sapete, mi riferisco appunto a chi fa le leggi in Italia, quindi il Parlamento, approvasse questa legge che è passata alla storia come legge Rognoni, la torre dal nome dei due che l'hanno scritta, che è la legge, vi dico il numero ma insomma se non lo ricordate non è importante, la 646 del 1982 che contiene questi due elementi rivoluzionali, l'articolo 416 bis che appunto introduce il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e poi lo strumento del sequestro e della confisca dei beni. E quindi arriva insieme Riccardo queste leggi, cioè noi per la prima volta in Italia riusciamo finalmente a parlare di mafia, diciamo da un punto di vista di legge, no? E la legge per la prima volta, questo come dire, è quasi un po' strano, no? Che abbiamo dovuto aspettare nel 1982 in Italia per arrivare a chiamare mafiosi per legge quelli che magari già chiamavamo mafiosi da altra parte, però ecco tu ci stai dicendo che contemporaneamente non solo li abbiamo chiamati mafiosi ma abbiamo cominciato a prender loro anche i loro patrimoni, giusto? Esattamente sì, esattamente sì, grazie a questa intuizione di viola torri abbiamo avuto questi due elementi che veramente sono stati la base di partenza di una rinnovata e molto forte azione di contrasto dello Stato nei confronti delle mafie. Voi dovete immaginarvi che insomma questa roba costituisce ancora oggi il perno centrale della legislazione antimafia, quindi veramente elementi di grande, di grande, di grande valore. Però se ci avete fatto caso mancava un pezzo a questa legge, no? Io vi ho detto che grazie alla legge Rognoni Ladurre si potevano colpire i mafiosi nei loro interessi economici attraverso la confisca dei beni. Bene, ma poi che succedeva di questi beni confiscati? Che cosa ne faceva lo Stato di questi beni che venivano tolti ai mafiosi? Quando parlo di beni mi riferisco alle case, alle ville, ai terreni, ai capannoni industriali, ma anche ai soldi, ma anche all'azienda. Per il momento ci concentriamo però sui beni immobili, cioè sulle cose che non si muovono appunto le case, i terreni, i palazzi e così via. Che cosa ne faceva lo Stato? I soldi si muovono come le moto, come le macchine e così via. Che cosa ne faceva lo Stato? Li toglieva i mafiosi, diventavano patrimonio pubblico e poi ecco, su questo pezzo mancante si mette al lavoro libera. Si mette al lavoro libera, peraltro appena nata. Libera nasce nel nostro paese dopo una stagione molto difficile nella storia repubblicana dell'Italia. Mi riferisco alla grande stagione delle stragi di mafia dei primi anni 90, che a loro volta seguivano il maxiprocesso di Palermo, che era stato istruito da grandi magistrati come Giovanni Falcone Paolo Borsellino, proprio a partire dalla legge Rognoni-Latorre. Questo maxiprocesso ha all'ultimo grado di giudizio la sentenza di Cassazione nel gennaio del 92, a maggio del 92 parte l'azione stragista di Cosa Nostra. Via Capaci, poi Via D'Amelio, poi gli attentati di Firenze, di Milano, il fallito attentato allo Stadio Olimpico di Roma, le bombe a San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Belabro. In quegli anni nasce l'intuizione di Libera, che poi nasce ufficialmente nel 95, ma insomma la prima cosa che Libera fa, intanto trova questa idea del 21 di marzo, cioè una giornata in cui fare memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie, ma poi lancia una campagna di raccolta di firme a sostegno di una proposta di legge che prevedeva l'aggiunta del tassello mancante alla legge Rognoni-Latorre. Che cosa ne facciamo dei beni? Un milione e duecentomila cittadini italiani firmano questo appello, viene consegnata questa proposta al Presidente della Camera dei Deputati e nel giro anche di poco tempo, a camere sciolte, in seduta deliberante della Commissione di Giustizia, viene approvata quella bellissima legge che è la 109 del 96, che introduce il principio del riutilizzo sociale, cioè i beni confiscati e mafiosi non possono avere altra finalità se non il riutilizzo sociale, cioè devono diventare luoghi di servizio per le persone, luoghi di accoglienza, luoghi di ascolto per chi fa più fatica, una vera e propria e straordinaria aggiungo rivoluzione. Grazie a questa legge in 25 anni siamo riusciti a vedere moltiplicati in tutta Italia, dalla Valle d'Aosta a Lampedusa, esperienze di riutilizzo sociale con migliaia di beni che prima, come dicevo, erano il simbolo del potere mafioso e ora diventano simbolo di riscatto e cambiamento per i territori. L'ultima cosa e poi mi fermo per il momento, come avviene concretamente questo meccanismo? Noi immagino che Leonardo mi volesse dare questa domanda, come si arriva a prendere una casa a un mafioso e a trasformarla, per esempio, in un centro di aggregazione culturale o in una comunità per donne vittime di violenza o per una qualsiasi altra finalità? Il meccanismo è piuttosto semplice nella sua complessità. Una volta che i beni vengono definitivamente confiscati e mafiosi con un meccanismo giudiziario che non stiamo qui ad approfondire diventano patrimonio dello Stato, patrimonio pubblico. Questo patrimonio viene gestito da un soggetto che lo Stato ha, come dire, istituito che si chiama Agenzia Nazionale per i Beni Sequestari e Confiscali. L'agenzia ha il compito di garantire il riutilizzo sociale di questi beni attraverso due meccanismi. Il primo è il cosiddetto riutilizzo per finalità istituzionali o usi governativi. La cosa più semplice da capire è mettere, per esempio, in una villa di un boss, una caserma dei carabinieri, piuttosto che della guardia di finanza. Questo meccanismo avviene all'interno delle amministrazioni dello Stato, quindi un meccanismo interno. Anche una scuola, per esempio? La scuola, sì, molte esperienze legate alla scuola sono, per la verità, confluiscono nell'altro tipo di finalità, quello diciamo così più sociale, che adesso vi racconto. Che cosa succede? Succede che se non c'è bisogno di riutilizzare questo bene per finalità istituzionali, l'agenzia chiede al comune dove si trova il bene, se il comune vuole quella villa, sto facendo l'esempio della villa, per farsi un progetto di finalità sociale. Il comune acquisisce il bene, che dunque rimane un bene pubblico, ma viene trasferito dal patrimonio dello Stato a quello del comune. E il patrimonio indisponibile significa che il comune non lo può vendere, non ne può fare quello che vuole, deve per forza garantirne il riutilizzo sociale. In che modo? Due modi. O lo fa direttamente, cioè praticamente ci mette, ma ci vuole, una scuola, un ufficio pubblico, magari distaccato in un luogo più lontano da dove si trova fisicamente il municipio, quindi per dare un servizio ai cittadini. Oppure i comuni possono garantire il riutilizzo sociale di questi beni assegnando l'ingestione attraverso un bando pubblico alle cosiddette realtà del terzo settore, associazioni, cooperative, gruppi, movimenti, che non diventano proprietari perché la proprietà resta pubblica, ma per un certo periodo di tempo si occupano di gestire quel bene e di farne appunto un luogo in cui ci siano delle ricadute e delle finalità sociali. E così nascono le comunità per le donne vittime di violenza, i centri di aggregazione socioculturale e tantissime altre esperienze di riutilizzo. Noi ne abbiamo contate in tutto il paese oggi, di esperienze di riutilizzo, quindi non di beni riutilizzati, ma di soggetti che fanno concretamente il riutilizzo sociale, oltre novecento, che sembrano poche, ma sono tantissime, sono tantissime esperienze di persone che ogni giorno si sporcano le mani facendo un'antimafia dei fatti molto concreta, restituendo alla collettività questi luni confiscati alle mafie e costruendo percorsi di riscatto, di cambiamento e di dignità per le persone che vivono in quei territori. Ora ti faccio arrabbiare, allora se ho capito bene lo Stato vende alle cooperative i beni confiscati. Hai capito molto male invece, io ho detto tutt'altro e sono convinto che chi ci ascoltava abbia capito bene. La domanda, ve lo dico perché poi ci sarà una specie di quiz, mi raccomando, parte delle cose che ha detto Riccardo serviranno anche a questo quiz, io per quello... Alla domanda provocatoria che mi fai, rispondo chiarendo ancora meglio che l'unica finalità per i beni confiscati ai mafiosi è quella sociale, nel senso che non si possono vendere se non in casi eccezionali, purtroppo stiamo facendo una battaglia perché questi casi diventino sempre meno, ma non si possono vendere, cioè tecnicamente si possono anche vendere quando non c'è modalità di restituzione sociale alla collettività, ma diciamo che la legge dice che i beni confiscati ai mafiosi devono essere riutilizzati socialmente, assegnati a titolo gratuito alle cooperative, alle associazioni che non ne diventano proprietari, ma li gestiscono per finalità sociali per un certo lasso di tempo. Questo vale per le ville, per i palazzi, per i terreni, per i capannoni industriali, per tutti i beni cosiddetti immobili. Sono stato più chiaro adesso? Eri già stato chiaro, ed ecco quindi i beni non vengono venduti, vengono dati come ha detto Riccardo gratuitamente, con un comodato d'uso fondamentalmente a queste associazioni appunto affinché cooperative e associazioni appunto ai fini sociali. Quindi grazie Riccardo per averci raccontato con così poche parole e con tanta semplicità ecco questo iter, l'itinerario di un bene confiscato appunto da quando viene confiscato a quando appunto torna a ciascuno di noi. Riccardo non ha detto una cosa, anche Riccardo di se stesso, lui fa parte di questo ciclo di incontri che noi stiamo facendo all'interno più in generale del percorso di libri di crescere. Riccardo sta portando avanti i libri di crescere a Salerno nella sua città, o meglio lui è della provincia di Salerno, di Pagani, però ecco Riccardo è il referente di Salerno per lo stesso progetto che in qualche modo state facendo anche voi studentesse e studenti del Beccari. Grazie Riccardo, quando abbiamo aperto questo incontro ci siamo detti che il tema di oggi è il monitoraggio dei beni confiscati, il monitoraggio civico dei beni confiscati. Scusami Tatiana se non ti faccio parlare, ma solo perché ci siamo messi d'accordo così prima, quindi ecco non vogliamo fare mansplaining, ma semplicemente ci siamo divisi la scaletta. Ecco, che cosa vuol dire monitorare? Aspetta un po' a me descriverlo in poche parole, che cosa vuol dire fare monitoraggio civico, cioè monitorare da cittadine e cittadini, monitorare da studentesse e da studenti, chiaramente non c'è un'età dalla quale si può cominciare a monitorare, si può fare sempre. E monitorare che cosa significa? Ecco Riccardo ci ha raccontato la storia di due leggi, una storia appunto comincia nel 1982, ecco la storia da un punto di vista della legge, diciamo così, del monitoraggio civico è più recente e comincia con una legge che ha fatto da poco nove anni, la legge 190 del 2012, che non a caso si chiama legge di prevenzione della corruzione. Allora voi magari a questo punto mi potreste chiedere ma che cosa c'entra la prevenzione della corruzione, poi vediamo che cosa significa pure questa parola, con il monitoraggio civico. Beh, c'entra perché questa legge del 6 novembre dice più o meno una cosa, dice per prevenire la corruzione, cioè per fare in modo che la corruzione non ci sia, quindi non intervenire solo dopo con la polizia, con la magistratura, quello si chiama repressione, e spetta ai magistrati decidere quanti anni di carcere, per esempio, dare a certe persone, non spetta a noi, non è che la mattina ci svegliamo e diciamo, ah, 10 anni di carcere a questo, no, non funziona così, meno male, non funziona così e speriamo che non funzioni mai così. Però ecco, per cercare di lavorare per evitare che si arrivi a corruzione, la nostra legge dice più o meno una cosa, dice tu, Stato, devi fare due cose. La prima cosa è renderti impermeabile al malaffare, cioè organizzati, conosciti, cioè devi fare delle cose per impedire pratiche di malaffare che possono avvenire al tuo interno. Quindi, cioè, tu devi sapere, è un po' come guardarsi allo specchio, vedete, uno la mattina si guarda allo specchio, è spettinato, si pettina, no, e si aggiusta, si trucca, eccetera, eccetera, no, si lava la faccia, quello come ho fatto sempre, assieme a tante altre parti del corpo. E così deve fare in qualche modo anche lo Stato, cioè deve fare attenzione a se stesso per capire che cosa fare per evitare di generare delle situazioni corruttive. Quindi, certe misure organizzative, certe, ora ci sono parole molto specifiche, però ecco, permettere ad esempio a persone che vogliono raccontare di aver assistito corruzione sul loro luogo di lavoro, di farlo e di essere protette, permettere appunto uno scambio di ruoli ogni torto, no, si chiama ruotazione degli incarichi, soprattutto tra i dirigenti, no, perché se no, se io rimango nella stessa posizione per tanto tempo, è più facile che poi mette in campo anche dei comportamenti poco opportuni, no, e quindi è anche importante ruotare gli incarichi, no, ce ne sono tante di misure di questo tipo, quindi lo Stato dice a se stesso, quindi alle sue, come dire, alla sua amministrazione pubblica, che sono i comuni, le regioni, i ministeri, le camere di commercio, le università, le scuole, le aziende sanitarie, tutto ciò che è pubblico, incluso anche le partecipate, sono tutte queste robe anche le partecipate, cioè tu devi fare delle cose per prevenire la corruzione al tuo interno. La seconda cosa che dice questa legge della prevenzione della corruzione è, puoi fare una cosa in più, renderti, non solo conoscerti, monitorarti, anche renderti conoscibile, renderti monitorabile, farti monitorare, da chi e come. Cominciamo dal come, con la cosiddetta trasparenza, trasparenza. Eh, che cosa vuol dire questa pubblicità, questa parola, trasparenza, trasparenza? Ho detto pubblicità perché ormai questa parola viene utilizzata pure nelle pubblicità dello yogurt, ah, la trasparenza, cioè ormai viene un po' abusata questa parola, no, trasparenza, trasparenza. Che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che io, amministrazione pubblica, ripeto, non solo faccio, io comune, non solo faccio attenzione a me stesso, ma racconto come lo faccio agli altri. E quindi chi sono questi altri? Noi. Cioè, a chi il nostro Stato dice e deve dire quello che fa? A noi tutti. E come si fa questa trasparenza? Beh, gloria a Dio, viviamo nel 2021, viviamo in tempi di internet, si fa mettendo online dati, informazioni, documenti, elenchi, notizie, soprattutto dati. Cioè, l'amministrazione pubblica, dice la legge di prevenzione della corruzione, cioè per prevenire la corruzione tu puoi farti conoscere dagli altri tramite i dati, dall'altra parte qualcuno questi dati se li deve andare a leggere, dall'altra parte qualcuno questi dati li deve utilizzare. Quindi il monitoraggio civico comincia qui. Se l'amministrazione deve essere trasparente, noi cittadini e cittadini, studentesse e studenti, persone anziane, persone giovani, tutto quello che volete, siamo chiamati a monitorare il bene di tutti. Monitorare i beni di tutti, che sono anche nostri. Siamo chiamati a esercitare, e dirò una parolaccia, quel controllo diffuso che non a caso quella legge, o meglio le leggi che derivano proprio da quella legge 190 del 2012, affidano a ciascuno di noi. Cioè noi, sembra un po' un discorso semirivoluzionario, ciascuno di noi può esercitare un controllo diffuso del proprio comune, della propria scuola. Come ci arrivano le macchinette del caffè a scuola? Una volta un ragazzo mi ha risposto ce le ha messe Dio. Io mi sono immaginato, sapete, a Loreto c'è, si dice, la casa di Maria che hanno calato gli angeli dall'alto. Io mi sono immaginato gli angeli che calavano la macchinetta del caffè al centro della scuola. No, funziona così. Sono processi umani. E tra questi processi umani c'è anche la decisione su come ci arrivano le macchinette. E in generale tutte le decisioni che lo Stato in tutte le sue parti. La scuola è parte dello Stato? Certo che sì, se è una scuola pubblica. L'università è parte dello Stato? Certo che sì. Il mio comune è parte dello Stato? Certo che sì. Sì, i ministeri sì. C'è tutte queste forme diverse. Quindi si devono rendere conoscibili da me. Che sono? Il solo fatto che io sia un cittadino italiano, ma anche se non avessi la cittadinanza, non importa, mi permette di sapere come lo Stato italiano spende, si organizza e decide. Questa roba qua, che magari per voi è scontata, perché siete più giovani, per Riccardo, Tatiana no, perché farei delle gaffe, diciamo, però per una genere... non è per niente scontata, perché è una cosa che è stata possibile solamente nel 2012. Prima lo Stato non si faceva conoscere dai suoi cittadini. Era inaccessibile, era inconoscibile. per dirla con zero calcare, per chi ha visto la serie di zero calcare su Netflix. Ecco, lo Stato era più o meno che rispondeva, è come se rispondeva ogni volta, stacce, per dirlo un po' in romanzo. Cioè, non ti dico io quello che faccio, sono lo Stato. Ecco, oggi invece lo Stato deve dire ai suoi cittadini quello che fa. Questo non perché, come dire, noi smettiamo di fidarci dello Stato, no, proprio per invece generare e accrescere la fiducia nei confronti dello Stato. Quindi monitorare per noi significa costruire quel rapporto di fiducia. Guardate, il monitoraggio civico è l'esatto opposto della sorveglianza. La sorveglianza è pensare che tutto vada bene mettendo centomila telecamere all'interno dei nostri luoghi pubblici, delle nostre case. E chi c'è dall'altra parte della telecamera? Io non lo so. Il monitoraggio civico invece è che tanti occhi, quindi non c'è un occhio che guarda tutti, ma ci sono tanti occhi che guardano il bene comune. Esattamente il contrario. Per quello il monitoraggio civico è il modo migliore per noi di generare oggi democrazia, tornare a fidarci delle nostre istituzioni, perché guardate, non fidarsi delle proprie istituzioni fa schifo. Non è una cosa bella non fidarsi delle istituzioni. Quindi noi dobbiamo ricostruire fiducia. E come si fa? Tramite appunto un rapporto di conoscibilità. Lo Stato si rende conoscibile è conoscenza. Noi ci impegniamo a conoscere, a verificare, a controllare, ad andare a vedere. E credetemi che questo può essere anche molto divertente. Non immaginatevi che questa cosa significa... cioè come si fa appunto andando in amministrazione trasparente. Il nostro obiettivo di questo esperimento che poi andremo a fare insieme, andando a visitare anche un bene confiscato, e capire quindi come fare questo monitoraggio proprio sui beni confiscati. Ma su questo non ve lo do, non mi soffermo io, e anzi finalmente lo chiedo a Tatiana, con cui mi scuso se finora non ti abbiamo ancora dato parola. Ecco, chiederei però per favore anche a te, Tatiana, un po' la stessa domanda anche nel presentarti, rispondere alla stessa domanda che ho fatto subdolamente a Riccardo. Come ci sei finita anche tu a lavorare su questi temi dei beni confiscati e che cosa può significare quindi unire quello che diceva Riccardo a quello che dicevo io? Cioè i beni confiscati ma da una prospettiva di monitoraggio cinico. Eccoci, allora, prima di tutto buongiorno a tutti e a tutti. Mi prenderò tutto il tempo che Riccardo e Leonardo hanno stato così finisco di annoiarvi con i nostri racconti. A parte tutto io lavoro, come diceva appunto Leonardo insieme a Riccardo, nel settore beni confiscati di Libero, ci lavoriamo ormai da un po' e diciamo che quando mi è capitato di incontrare l'associazione un po' lavorare sui beni, che vuol dire lavorare sulle nostre città, sulle nostre comunità, è stato come dire un po' un amore a prima vista, nel senso che è stata la cosa che mi ha appassionato di più e che proviamo a fare tutti i giorni, proviamo a farla sempre col sorriso e sperando di portare cambiamento. Non mi dilungo oltre, provo ad entrare un po' nel vivo e rispondere quindi alla sollecitazione di Leonardo. Prima però di parlare di monitoraggio vi dico una cosa, pensate che viaggio lungo hanno fatto questi beni immobili, che si sono trasformati da beni privati di una persona sola, beni che erano anche un po' il simbolo del potere criminale di questa persona, sono diventati dei beni pubblici, perché sono diventati dei beni dello Stato, dei nostri comuni, delle regioni, dei ministeri, delle forze armate di polizia e poi si sono trasformati in beni comuni, cioè in beni che sono ritornati a noi. Ve ne renderete conto tantissimo durante la visita che farete, di quanto questi beni siano tornati effettivamente al territorio, siano diventati di tutti, perché se io ho un campo di calcio in cui posso andare a giocare, ho un centro in cui posso andare a fare i compiti, un ambulatorio in cui posso visitarmi, una cooperativa che dà lavoro a me, alla mia famiglia, ai miei vicini, pensate quanto questi beni sono ritornati effettivamente nelle nostre mani e proprio per questo ci sembrava fondamentale che l'azione di monitoraggio di Libera riguardasse questi beni comuni, perché era un po' come monitorare quello che succede nella nostra comunità e nella nostra vita di tutti i giorni e quindi appunto insieme a Leonardo, Riccardo, insieme agli amici di ondata, tantissimi altri compagni di viaggio, ci siamo immaginati come poteva essere questo monitoraggio, cosa voleva dire questo monitoraggio e devo dirvi che anche in questo caso un po' una legge dello Stato ci è venuta in aiuto, perché nel 2011 è stato scritto il codice antimafia, il codice che riuniva diciamo tutte le leggi antimafia scritte nel nostro paese, quelle che ha citato Riccardo, altre che nel corso degli anni si sono aggiunte e in particolare questa legge parla anche nell'articolo 48 in particolare di trasparenza, di quello che ci diceva appunto Leonardo, cioè di quanto effettivamente gli enti locali devono raccontarci di questi beni confiscati e allora noi un po' abbiamo preso spunto da quello e abbiamo pensato che però sì gli enti locali e poi Riccardo ce lo spiegherà anche bene come devono fare da loro parte, ma anche i cittadini possono aggiungere a queste informazioni un altro pezzo di racconto, anzi forse devono aggiungerlo se vogliono veramente partecipare alla vita del loro territorio e quindi come vi ci siamo iniziati ad occupare di beni confiscati e di monitoraggio. Ora io ve lo dico molto semplicemente, sono tre i passaggi fondamentali che si fanno in questo percorso, poi con Leonardo, con Riccardo abbiamo immaginato tanti strumenti, tanti percorsi diversi, però ecco forse sono tre i passaggi fondamentali. Il primo passaggio è quello di illuminare il bene che vogliamo monitorare, proprio come se accendessimo la luce in una stanza. Quindi immaginate di iniziare a capire cosa sono questi beni confiscati, l'incontro di oggi, i materiali che avete letto di Libera Piemonte, quelli che vi condivideremo anche noi, sono dei modi per accendere una luce su questo tema, per provare a capire bene che cosa succede su questi beni confiscati, cosa sono, cosa dicono le leggi, cosa fa anche la comunità su questo. E questo è il primo passaggio importantissimo, perché se non sappiamo bene di che cosa stiamo parlando e se non abbiamo deciso bene su cosa accendere la luce, poi tutto il resto del nostro percorso andrà un po' in confusione. Il secondo passaggio di questo percorso è quello che voi farete con la visita all'esperienza di riutilizzo, cioè iniziare a vedere bene cosa succede su questo bene confiscato. Come si fa? Si fa prima con una ricerca su online, Leonardo prima parlava di dati, di numeri, ecco, un pezzo della nostra ricerca deve essere quello, non perché ci interessa collezionare tanti numeri diversi e tanti dati diversi, ma perché questi numeri, se letti nel modo giusto, ci raccontano una storia, ci raccontano per esempio la storia criminale di quel territorio, ci raccontano la storia delle associazioni, la storia dell'impegno dell'amministrazione comunale, ci raccontano insomma un po' quello che succede sul nostro territorio. E poi un pezzo importante della parte appunto di, della seconda parte di questo percorso è proprio andare a conoscere dal vivo il nostro oggetto di monitoraggio, che sia un bene confistato già riutilizzato, che sia anche un bene che in questo momento è chiuso, non è ancora utilizzato e che quindi possiamo andare a vedere lo stesso come è fatto e perché non è utilizzato. E anche questo per noi è un pezzo di vita associativa importantissima, lo abbiamo sperimentato in tanti modi diversi, ci facciamo i campi estivi, sui beni confiscati, ci facciamo le visite di monitoraggio, le biciclettate andando su e giù per le strade dei nostri paesi per conoscere e vedere dove stanno questi beni. Perché è così importante vederlo? Perché non basta quello che ci vogliono raccontare, dobbiamo anche vedere se quello che ci raccontano è effettivamente vero. E quindi vigilare, guardare con i nostri occhi, parlare con queste persone, fare foto, video, interviste, passare una giornata con loro ci restituisce il pezzo di questo racconto, ci restituisce tanto quali sono gli ostacoli che queste persone incontrano, quali sono invece i punti di forza di quell'esperienza che magari possiamo, come dire, suggerire e proporre ad altre associazioni. Quindi davvero il cuore del nostro percorso di monitoraggio. Io lo dico anche se, lo so che Leonardo lo faccio arrabbiare ogni tanto, quando dico che il monitoraggio civico prima di tutto è raccontare, prima di tutto è costruire un racconto del nostro territorio. E come lo costruiamo un racconto se non andiamo a vedere bene quello che succede e non apriamo gli occhi davanti al nostro contesto, a quello che ci circonda. E l'ultimo pezzo del percorso di monitoraggio sui beni, che per noi è ovviamente altrettanto importante, è quello di, ad un certo punto, raccogliere tutte queste informazioni, metterle insieme, comunicarle, perché è importante comunicarle e raccontarle nella forma giusta, ma soprattutto fare delle proposte, perché se noi monitoriamo i beni confiscati che non sono utilizzati nel nostro comune, possiamo poi fare delle proposte per capire come utilizzarli, possiamo fare delle proposte per capire come far superare, per esempio, all'associazione gli ostacoli che ha incontrato sulla sua strada, o anche come rendere il bene più conoscibile, perché a volte non è sempre così facile capire che l'associazione si trova in un bene confiscato, che quel bar è un bar confiscato e riutilizzato. Allora sta anche a noi trovare il modo, le proposte, le nuove idee per raccontare effettivamente questa cosa, questo pezzo di impegno e per trasformarlo poi in un pezzo di impegno che possiamo anche provare a replicare. Ecco, per noi il monitoraggio è questo, per noi il monitoraggio è riuscire a costruire una comunità consapevole di quello che la circonda e in grado poi anche di farsi portatrice di cambiamento. Ognuno con il suo, non vi chiediamo di trasformarvi in ispettori gadget e andare a scovare grandi scoop, vi chiediamo semplicemente di girare con una lampadina, provare ad illuminare le strade che sono intorno a voi e trovare il modo per raccontarle e per viverle soprattutto, per essere i protagonisti poi di tutto quello che vi circonda. Quindi ecco, per noi il monitoraggio è soprattutto questo e stiamo cercando, cerchiamo sempre nuove strade, nuovi stimoli per fare in modo che poi rientri anche nella nostra, nella nostra azione. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, Leo, o se invece c'è qualcosa che ho fatto. Quindi monitorare i beni confiscati vuol dire che mi vesto da Batman e vado su un bene confiscato, ho capito tutto? Soprattutto non vediamo l'ora di vederti vestito da Batman, verremo a fare una visita di monitoraggio con te solo per quello. Potrebbe essere anche interessante come cosa, però non è proprio quello magari. No, no, non c'è bisogno, possiamo anche non vestirci da Batman, dobbiamo semplicemente avere un po' di buona volontà e appunto cercare un po' di notizie su internet, tutti ormai siamo sempre su internet collegati, sui social network, sulle pagine di approfondimento, quindi dobbiamo imparare a cercare, sapere dove cercare e in questo vi possiamo aiutare e sostenere e soprattutto trovare poi il modo di far parlare questi dati, di trasformare i numeri in azioni, in fatti, racconti, in nuove esperienze da fare insieme. Grazie Tatiana perché tu hai detto soprattutto una cosa, ecco bisogna monitorare significa raccontare e significa aprire gli occhi, no? Tante volte diventa davvero difficile anche solo pensare che magari, non dico, ma in alcuni casi persino a poche centinaia di metri dalla propria casa può esserci un bene confiscato, no? Magari uno non lo sa, ha passato tutta la vita, magari tante volte uno passa di lì, diciamo, bella questa cosa, bella questa cooperativa e non si è mai soffermato sul fatto che lì prima poteva essere un bene confiscato, no? Ed ecco, devo dire che appunto avere questa consapevolezza, no? Ci aiuta a capire anche il nostro territorio, no? Le cose, il luogo dove viviamo. Perché i beni confiscati disegnano anche, diciamo, una geografia, una geografia che è tanto una geografia criminale, perché ci fanno capire chi sul nostro territorio ha provato a prendersi i nostri spazi, ma anche una geografia della speranza, perché appunto è anche la geografia poi di questi spazi che da contesi sono tornati a essere luoghi di tutti, no? E per quello, come diceva anche Riccardo, ecco, questo valore politico, oltre che economico, dei beni confiscati, proprio perché raccontano appunto questa geografia della speranza. E grazie anche a Tatiana perché automaticamente, nel tuo discorso, si intrecciavano il monitoraggio analogico degli occhi, no? Quindi andare a vedere questi beni, voi ragazze e ragazzi, il passo successivo a questo incontro che stiamo facendo tra di noi è fare delle visite di monitoraggio sui beni confiscati. Poi capiremo come, c'è uno strumento che poi vi vogliamo consegnare per fare proprio questa cosa. Però ecco, Tatiana, tu hai già proprio introdotto questa cosa, cioè da un lato gli occhi, dall'altra parte i dati che si possono trovare anche online rispetto proprio a dove sono i nostri beni confiscati. A proposito, Tatiana, cioè se io proprio volessi sapere, no? Dove stanno, Tatiana, Riccardo, continuo a chiederlo a te, Tatiana, ma cioè se io proprio voglio sapere, ma dove stanno i beni confiscati? Cioè voglio vedere se nella mia città c'è un bene confiscato. Dove lo vado a vedere? Allora, la prima cosa facile da fare è andare sul sito dell'Agenzia Nazionale e cercare delle informazioni lì dentro. Prima Riccardo vi diceva che c'è un'agenzia che è questa grande istituzione nazionale che raccoglie i dati sui beni confiscati. Da qualche anno questa agenzia, oltre a gestire i beni, raccogliere i dati, ha anche deciso di provare a rendere questi dati i più pubblici possibili. Per cui c'è un sito che si chiama Open Regio, è molto facile da cercare, da navigare, in cui è possibile attraverso una piantina, attraverso una mappa della nostra Italia, cercare di capire dove sono i beni confiscati. Noi possiamo scegliere la regione, possiamo scegliere la provincia, addirittura la città e ci viene fuori il dettaglio di dove sono questi beni, quanti sono, di che tipologia sono, sono terreni, sono appartamenti, sono box per le macchine, sono grandi ville e ci viene fuori, se vogliamo, anche un file Excel. Perché vi dico che viene fuori un file Excel? Perché poi questo file noi lo possiamo usare, lo possiamo usare per fare le nostre visite di monitoraggio, lo possiamo trasformare in una mappa più bella, lo possiamo trasformare in un articolo di giornale, in un report di monitoraggio più completo, possiamo insomma un po' lavorarci e fare quello che vogliamo. Ed è una cosa che tra l'altro Libera ha provato a fare in un sito che si chiama Confiscati Bene, che come vi dicevo appunto è stato realizzato insieme ad un'altra associazione che si chiama Ondata, che è un sito in cui noi abbiamo fatto questo, abbiamo preso i dati Confiscati dell'agenzia, li abbiamo messi su un'altra mappa e abbiamo provato a fare un po' di esperimenti. Abbiamo un blog in cui raccontiamo tutto quello che succede su questi beni, abbiamo chiesto ad alcuni comuni per esempio di regalarci i loro beni e li abbiamo aiutati a renderli ancora più trasparenti, abbiamo provato a fare degli incrosi per vedere se tutti i dati corrispondono e tutti i dati sono uguali, quindi abbiamo provato un po' a lavorare anche noi su questi dati e cercare di renderli ancora più trasparenti di quello che sono. Però ecco il primo passaggio è questo, questa grande mappa dell'Italia vi può aiutare a capire quale regione ha più beni confistati, quale meno, in quale città per esempio del Piemonte ci sono più beni confistati in assoluto, di che tipo, quindi potete un po' fare delle ricerche, vi ripeto non serve solo il numero, il numero poi serve a raccontarci invece altro, a raccontarci appunto la storia criminale ma soprattutto a raccontarci poi la storia anche dell'impegno delle amministrazioni e di tutto il terzo settore, di tutto il volontariato su questo. Poi se volete sapere ancora una cosa in più sul vostro comune, qua chiedo a Riccardo però di aiutarmi a raccontare come si fa a scoprire che cosa c'è nel proprio comune e soprattutto quanto il proprio comune è attivo su questi temi. Sì, lo facciamo raccontandovi una delle esperienze che abbiamo messo in campo, proprio sperimentando concretamente la pratica del monitoraggio civico, la costruzione di una comunità o di più comunità monitoranti sul tema dei beni confiscati. Intanto Tatiana già vi raccontava un'esperienza importante di monitoraggio civico di Libera sui beni confiscati che è questo portale Confiscati Bene 2.0 che è un po' come dire l'idea da cui poi sono germogliate una serie di altre esperienze importanti, compresa quella che sto per raccontarvi molto velocemente, che è proprio un lavoro di ricerca. Forse la prima sperimentazione concreta di monitoraggio civico è proprio così di dettaglio sul tema dei beni confiscati che abbiamo messo in campo in questi anni, che però va a fotografare un aspetto del tema della trasparenza sui beni confiscati ed è un aspetto legato a quello che vi raccontava Tatiana. Ma io come faccio a sapere se nella mia città ci sono beni confiscati, che cosa accade su questi beni confiscati, se sono riutilizzati, se non lo sono, chi li sta riutilizzando, che tipo di attività ci si fa e così via. Ecco, questa cosa qui è una cosa che voi in teoria dovreste riuscire a sapere, a conoscere, come diceva Leonardo, andando sul sito internet del vostro comune. La prima risorsa è quella di Open Reggio, lì voi avete una fotografia attuale ed aggiornata dei beni confiscati trasferiti al patrimonio dei comuni italiani. Quindi, se nell'elenco di Open Reggio c'è anche il vostro comune, vuol dire che il vostro comune ha dei beni confiscati nel suo patrimonio. Se questo accade, andando sul sito internet del vostro comune, in una sezione particolare del sito internet del vostro comune, che è nata proprio per favorire quella trasparenza di cui vi parlava Leonardo, che si chiama Amministrazione Trasparente, troverete una serie di voci, tra cui anche una voce che si chiama Beni Immobili e Gestione Patrimonio. Cliccando su questa vocina, che ci deve stare per forza perché lo impone la legge, dovreste trovare all'interno di questa sottosezione l'elenco dei beni confiscati, in cui i comuni devono inserire una serie di informazioni precise e molto dettagliate. Dove stanno? Quali sono i riferimenti catastali di questi beni confiscati? Se li ha assegnati? A chi li ha assegnati? Come li ha assegnati? Che cosa succede in quei beni confiscati? Per quanto tempo li ha assegnati? Ora, queste informazioni di cui io vi sto parlando e che dovreste trovare in questo elenco, non è che se le inventa libera, ma lo dice la legge. Lo dice quella legge che citava Tatiana, questo decreto legislativo del 2011, il codice antimafia, che proprio all'articolo 48, se vogliamo essere proprio precisi precisi, articolo 48,3 lettera C, dice chiaramente che i comuni che hanno nel proprio patrimonio beni confiscati alla mafia devono, quindi non è che possono o se vogliono lo fanno, ma devono pubblicare e aggiornare mensilmente un elenco di questi beni in cui inserire una serie di informazioni. Queste sono quelle che vi dicevo prima, dove stanno, chi lo gestisce, quanto sono grandi, per quanto tempo sarà gestito da quell'associazione, per farci che cosa e così via. Lo devono fare per legge, dunque è un obbligo, anzi, il codice dice che se non lo fanno, gli inadempienti vanno anche incontro a delle sanzioni importanti, che non approfondiamo perché non è questo, ma insomma c'è anche, tra virgolette, la punizione per chi non adempie a questo obbligo di legge. Ora, che cosa abbiamo fatto noi che abbiamo, insomma, fantasia e voglia di metterci al lavoro sul tema del monitoraggio civile? Ci siamo posti una domanda. Abbiamo detto, vogliamo andare a capire quanti comuni italiani rispettano questo obbligo di legge della pubblicazione dell'elenco dei beni confiscati? Non è una domanda facile facile, c'è dietro un lavoro importante di ricerca, di approfondimento online, anzitutto con la ricerca di questi elenchi. Allora, che abbiamo fatto? Intanto abbiamo scaricato da OpenReggio l'elenco dei comuni italiani che hanno al loro patrimonio beni confiscati. Quando abbiamo fatto questa ricerca ricerca, ora sono, non so, questo numero è un po' più alto, ma quando abbiamo fatto questa ricerca erano 1076, quindi non pochi, non era una base di ricerca di poco conto, erano 1076 comuni. Dopodiché abbiamo costruito una bella comunità monitorante, volontari di Libera, alcuni tirocinanti, alcuni staggisti e così via, e ci siamo messi a spulciare sito per sito questi 1076 comuni per capire chi pubblicava l'elenco e chi no. Vi faccio una domanda anche se non potete rispondermi immediatamente, però io la immagino la risposta. Secondo voi, la maggioranza di questi comuni li pubblicava o no questi elenchi? La risposta è no. Abbiamo scoperto che su 1076 comuni ben 670, dunque il 62% non lo pubblicava questo elenco, di fatto contro la legge, di fatto contro la legge. Lo pubblicava solo il 38% pari a 406 i comuni. Guardate, a parte il fatto che non ci siamo limitati a questo dato qua, ma su chi pubblicava l'elenco abbiamo fatto anche una verifica di come lo pubblicava, se rispettando tutti i parametri e i criteri della legge, naturalmente abbiamo scoperto che tra chi pubblicava la maggioranza non lo faceva in maniera, diciamo così, perfettamente conforme a quanto stabilito dal codice. Quindi il formato di pubblicazione, le varie informazioni necessarie e obbligatorie, abbiamo fatto anche questo lavoro. Però è un dato importante, perché è una fotografia della capacità della pubblica amministrazione di adempiere, di adempiere, scusate, ad un obbligo di trasparenza imposto dalla legge. Diciamo che con questa ricerca, a cui abbiamo dato anche un titolo simpatico, l'abbiamo chiamata rimandati. Ci sta dentro la parola dati, ma ci sta dentro l'idea di quell'esame che si faceva una volta a scuola quando venivi rimandato a settembre, perché non eri stato proprio bravissimo durante l'anno scolastico. Abbiamo rimandato a settembre i comuni. Questo settembre non è un settembre specifico, è un orizzonte temporale in cui rifaremo questa ricerca per capire se hanno imparato a fare questa roba qui. In Campania, la terra da cui io arrivo, in cui vivo, questo passaggio, questo esame di riparazione a settembre, l'abbiamo già fatto. L'abbiamo già fatto forti di un passaggio preliminare importante. Cioè, intanto vi dico che in Campania, di quei 1076 comuni, ce n'erano 131, quindi non pochi. E noi abbiamo scoperto che su quei 131, 86 non pubblicavano l'elenco e 45 lo pubblicavano. Ora, sia agli 86 che non pubblicavano, che ai 45 che lo pubblicavano male, noi abbiamo inviato una domandina, un piccolo documento che la legge ci consegna come uno strumento di trasparenza, che si chiama accesso civico semplice. Cioè noi, come singoli cittadini... Torniamo un attimino. Allora, tu mi hai detto, noi possiamo vedere se i comuni pubblicano l'elenco nel caso in cui a loro sono trasferiti per i confiscati, giusto? Perché questo glielo chiede la legge, no? E quindi se non lo fanno, che cos'è che possiamo fare? Com'è che si chiama? È questo che vi stavo raccontando, no? Di questo strumento che ci è messo a disposizione dalla legge, eh? Dalla legge, a disposizione di tutti i cittadini italiani, che è uno strumento per chiedere che i comuni facciano il loro dovere, cioè pubblichino i dati che sono obbligati a pubblicare. Questo strumento si chiama accesso civico semplice. Poi ce n'è pure un altro che magari Leonardo ci aiuterà a scoprire, che però per il momento lasciamo un attimo da parte, perché ci concentriamo su quello che abbiamo fatto per rimandati. Abbiamo fatto questa domandina, questo piccolo documento, che tra l'altro è disponibile anche sul nostro sito Confiscati Bene 2.0, no? Vi spieghiamo come farlo, anzi lo genera automaticamente, ma insomma è una domanda che abbiamo inviato ai comuni per dire, guardate, siete inadempienti rispetto a quest'obbligo di legge, per favore pubblicate l'elenco. L'abbiamo inviata a tutti i 131 comuni, chiedendo a chi non lo pubblicava di pubblicarlo, a chi lo pubblicava male di aggiornarlo. Intanto mi verrebbe da dirvi che abbiamo avuto poche risposte a questa domanda di accesso civico e questa è un'altra, diciamo così, infrazione, perché sono obbligati i comuni a rispondere alle domande di accesso civico. Ma a parte questo, quello che mi preme sottolineare è che questo lavoro ha avuto un risultato dal punto di vista politico, perché sapete che cosa è successo? Che dopo le nostre domande di accesso civico noi abbiamo rifatto la ricerca su questi 131 comuni e abbiamo notato che i numeri di chi pubblicava e chi no sono cambiati. Prima pubblicavano soltanto 45, adesso pubblicano 66 e appena sopra la maggioranza dei comuni pubblica, perché appena sotto ci sono quelli che non pubblicano 65. Però è cambiato, è cambiata la fotografia generale. Che significa questo? Che le comunità monitoranti che fanno pratica di monitoraggio civico aiutano concretamente la pubblica amministrazione ad essere più trasparente e aiutano concretamente il paese a conoscere. Tu mi stai dicendo Riccardo che io, persona normale, posso fare una domanda di accesso civico al mio comune per avere questo elenco e il mio comune è obbligato a rispondermi. Assolutamente sì, è esattamente quello che sto dicendo ed è esattamente quello che abbiamo fatto determinando in Campania un cambiamento del panorama della trasparenza sui beni confiscati. Perché oggi, sebbene appena appena sopra, ma la maggioranza dei comuni campani pubblica l'elenco dei beni confiscati. Ora, ovviamente non tutti lo fanno ancora molto bene, non tutti sono così precisi, però guardate che c'è un dato politico molto importante che dà valore non solo allo strumento dell'accesso civico, ma alla pratica del monitoraggio civico. Cioè, un gruppo di volontari e volontarie di libera Campania ha determinato un cambiamento delle condizioni di trasparenza della pubblica amministrazione. L'abbiamo fatto noi, l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo fatto noi e questo è davvero molto bello e importante. Questi dati sono finiti, diciamo così, in un appendice della ricerca nazionale in rimandati che era un focus regionale che si chiama Rimandati Campania. Leonardo poi magari vi farà avere i link da cui scaricare entrambe queste ricerche. Perché è bella questa esperienza? Perché è un'esperienza concreta di monitoraggio civico, molto concreta, solo un aspetto, ma un aspetto importante perché la conoscibilità dei dati è la precondizione per garantire processi più rapidi di riutilizzo sociale. Ma è soltanto una esperienza. Ecco, ripeto, Tatiana ce ne raccontava un'altra, compiscati bene 2.0. Ci sono anche altri studi, altre ricerche che Liber ha curato, credo che alcune di queste adesso ve le presenterà velocemente anche Tatiana. Ma ci tenevamo a raccontarvi questa storia, questa storia di impegno sui territori per dirvi che si può fare, che funziona e che, attenzione, non l'abbiamo fatto per fare un esercizio perché non tenevamo niente da fare e ci volevamo mettere a inviare le domande di accesso civico ai comuni. No, no, lo abbiamo fatto perché siamo convinti, lo ripeto, che la conoscenza sia la prima strada per favorire il riutilizzo sociale. Il monitoraggio è uno strumento. L'obiettivo finale resta moltiplicare le espedenze di riutilizzo sociale dei beni confiscati. E quindi, Tatiana, Riccardo, ma secondo voi, cioè, quello che è stato fatto in Campania, lo possiamo fare anche in Piemonte, magari facendoci proprio aiutare dalle studentesse, dagli studenti del Beccari? Sì, certo, assolutamente sì, sapete perché? Perché noi queste schede di monitoraggio le abbiamo messe a disposizione di tutti, perché quando voi leggerete, sfoglierete online la pubblicazione di rimandati, vedrete che alla fine le ultime pagine riportano tutte le domande che noi abbiamo fatto i comuni e sono molto, molto facili da completare, sono delle crocette da mettere nella maggior parte dei casi, quindi vedrete che poi sarà facilissimo in realtà cercare la pagina sul comune e leggerla e tirare fuori i dati. Così come quando noi abbiamo iniziato a fare le prime visite di monitoraggio, a ragionare su confiscati bene, a creare il sito, abbiamo anche deciso di mettere online la scheda di monitoraggio di un bene confiscato, quindi le domande da fare, le cose da cercare, cosa chiedere al soggetto gestore, cosa chiedere al comune dove andare a trovare i dati, vedrete che poi alla fine sarà anche un po' divertente fare gli investigatori e andare a cercare i dati online, così come sarà molto divertente fare la visita e parlare direttamente con chi questi beni li gestisce. Per cui gli strumenti sono davvero tanto semplici, non vi chiediamo di fare degli sforzi complicati per cercare chissà dove i dati, vedrete che sarà tutto molto semplice, molto guidato e che poi i risultati vi stupiranno. Conoscerete anche voi delle cose che non sapevate esserci sul vostro territorio e vedrete che sarà una scoperta quotidiana fare queste visite di monitoraggio e questi report tutti insieme, sarà anche un modo per lavorare in gruppo, per rafforzare ancora di più il gruppo che c'è fra di voi, per conoscervi meglio, per sperimentare nuove cose. Quindi vedrete che alla fine sarà anche molto divertente, nonostante la noia di questo incontro sarà molto divertente fare le visite di monitoraggio. Le visite di monitoraggio sono d'accordo, è più divertente che sentirci in questo momento. Però ecco, più che altro in questo tempo volevamo prepararci, prepararvi proprio a capire che cosa possiamo fare e grazie Tatiana, grazie Riccardo perché proprio l'avete raccontato benissimo, quindi questo aprire gli occhi e stare, andare su un bene confiscato, come faranno anche le studentesse e gli studenti del Beccari dopo questo tempo di formazione. Noi andremo a fare proprio delle visite di monitoraggio, andrete ragazze a fare queste visite di monitoraggio e noi vi consegneremo una scheda che tra poco vi farò vedere, che era appunto quella scheda di cui ci parlavano Tatiana e Riccardo. La seconda cosa è questa, quindi monitorare la pratica dell'utilizzo, la prima cosa, quindi stare fisicamente sul bene. La seconda è quella più generale della partita dei dati, cioè aiutarci a raccogliere quanti più dati possibili che devono mettere i comuni su questi beni confiscati. Beh, allora io corro il rischio di dire che secondo me se ci aiuta la scuola Beccari assieme a Libera Piemonte possiamo fare anche rimandati Piemonte. Facciamo questa, vogliamo provare a farla questa pubblicazione con il contributo quindi di questa scuola del progetto Liberi di Crescere, pensare appunto di arrivare a fare come è stato fatto in campagna, quindi un gruppo di monitoraggio che in questo caso prova a coinvolgere anche una scuola che fa trasparenza dei dati, domande di accesso civico, quindi domande di accesso civico e Riccardo se ho capito bene io scrivo al mio comune delle buche delle strade, giusto? E' questa una domanda di accesso civico? Non esattamente, intanto potete scrivere al comune anche per le buche delle strade se è necessario, ma l'accesso civico non è proprio questo, è l'accesso civico semplice, è per chiedere ai vostri comuni, ma in generale a tutti gli enti della pubblica amministrazione di assolvere al dovere di pubblicazione di alcuni documenti che loro non pubblicano. Con questa domanda di accesso civico voi ne chiedete la pubblicazione. Quindi attenzione che nel quiz c'è una domanda tra bocchetto, quindi ora vi abbiamo dato un ottimo suggerimento, fate attenzione. Ecco, quindi appunto nel caso dei beni confiscati significa utilizzare l'accesso civico che io posso utilizzare su tanti dati e documenti diversi, proprio su questo elenco dei beni confiscati. Quindi sì, proveremo a farlo. A proposito di Libera Piemonte, Gabriele Tassinari, in altri incontri precedenti a questo vi avrà già raccontato anche il dato proprio sul Piemonte, in merito anche alla risposta dei comuni a dove sono, quanti sono questi beni confiscati, chi pubblica, chi non pubblica. Ecco, proveremo appunto a partire da quei dati per farli crescere, da rimandati a promossi. Cioè dove promossi vuol dire mossi per, cioè noi speriamo che i comuni si muovano per la trasparenza, si muovano per i beni confiscati, si diano da fare. E questo movimento nasce proprio anche, può nascere anche, ripeto, grazie a persone normalissime, società civile, chiamiamola così, persone appunto come lo siamo noi, che appunto fanno delle cose per i beni confiscati. A questo punto, ecco, prima di iniziare questo incontro, e poi vi faccio vedere gli strumenti, all'ultima domanda anche a Tatiana e Riccardo, prima proprio di parlare con voi, del Beccari ragionavamo tra di noi, rispetto a qualcosa che sta succedendo oggi in Italia. Allora, oggi in Italia noi stiamo andando a decidere come spendere dei soldi per uscire, e quali riforme fare, diciamo così, per uscire dalla crisi di Covid. D'accordo? Cioè la malattia Covid ha generato un effetto devastante sulla nostra economia, e il nostro Stato ha scelto di investire 235 miliardi di euro, che sembrano, sembrano un numero tipo il fantastiglione di Paperon De Paperoni, visto che è sparita Tatiana, ma poi la recuperiamo, il fantastiglione di Paperon De Paperoni per, per, eccola che è tornata, eccoti, ti abbiamo rivisto. Quindi questo fantastiglione di Paperon De Paperoni per far riprendere l'Italia dalla crisi Covid. Come vengono spesi questi soldi è scritto all'interno di un documento, magari non so se vi è suonato già questa parola strana, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, no? Ve ne è detto tante volte. Ora, si parla, Tatiana, Riccardo, chi vuole rispondere, si parla di beni confiscati dentro questo documento? Eh sì, diciamo che se ne parla. Non sappiamo ancora se se ne parla bene o male, lo scopriremo tra un po', però se ne parla. Lo stiamo già un po' scoprendo, ma insomma, speriamo che ci siano delle sorprese, diciamo così. Il PNRR riserva una quota che non è piccola a questo tema, perché riserva 300 milioni di euro, che sono davvero tanti, per rendere i beni confiscati, quei beni comuni di cui dicevamo prima, cioè per renderli veramente al servizio della comunità e delle persone. È uscito anche un bando, un bando per iniziare a spendere questi soldi, è uscito qualche giorno fa e devo dire che purtroppo Libera non è molto contenta di come è stato deciso di spendere queste risorse, perché per esempio sono state individuate solo alcune regioni, sono state individuate solo alcune tipologie di interventi, quindi per esempio si potranno fare delle ristrutturazioni fisiche, ma non si potranno fare interventi per esempio di progettazione, di attività, di azioni associative, quindi ci sono un po' di cose che potrebbero migliorare. Noi lo abbiamo scritto, lo abbiamo detto, insieme a noi l'hanno detto tantissime associazioni, ora speriamo che queste cose che abbiamo detto vengano un po' ascoltate, vengano un po' recepite, quindi ci sia modo di cambiare in corsa un po' le regole per spendere questi soldi. Sicuramente sarà una cosa molto importante da monitorare, a prescindere da come andrà il bando, da quanto sarà cambiato, da quale sarà la risposta, sarà importante poi vedere come vengono spesi questi soldi, dove, chi li chiede, se chi li chiede li spende bene, se li spende tutti fino alla fine, se la comunità si accorge di questa spesa, no? Cioè se in qualche modo il bene torna. Quindi sarà una bella sfida. Vediamo, noi speriamo di potervi dare nuove notizie presto, cioè speriamo che poi appunto l'Agenzia della coesione territoriale che ha pubblicato questo bando ci ascolti, ascolti un po' le associazioni e possa fare qualche cambiamento dell'ultimo minuto, ecco. Grazie Tatiana. Beh sì, perché 300 milioni di euro è a volte, il problema è che poi quando si parla di tanti soldi si perde un po' la percezione del reale, no? Perché a volte sembra quasi che dire 300 milioni, 310, sia lo stesso, no? E sono davvero risorse che sui beni confiscati con questa entità, diciamo, e poi in così poco tempo non sono mai arrivati. E quindi devo dire che siamo davvero preoccupati, no? Rispetto a questa poi necessità di spendere velocemente questi criteri e purtroppo ecco anche molto spesso calati dall'alto, no? Vedete un attimo fa proprio con Tatiana, con Riccardo dicevamo beh i beni confiscati sono un esempio di coprogrammazione di territorio, coprogettazione cioè di una società civile che si rende protagonista di una trasformazione che è anche politica, no? E invece contemporaneamente qui ci stiamo rendendo conto che stiamo parlando dei 300 milioni come se fossero patatine e stiamo scegliendo di come investire questi soldi in forme molto discrezionali, diciamo, cioè è lo Stato che sta scegliendo senza sentire libera, senza sentire anche tante persone che avrebbero, come dire, proposte, idee. Poi si sa ecco la fretta è sempre cattiva compagna, no? Ecco questa idea di correre a spendere molto spesso può finire a far spendere male, eh? E noi poi sappiamo anche che la criminalità organizzata, no? Le mafie, la corruzione sono molto, invece come dire, hanno una capacità molto maggiore di noi a essere veloci e a raccogliere purtroppo in alcuni casi anche tante risorse, soprattutto se cadono così a pioggia. È evidente che sarebbe devastante, no? Se proprio sui beni confiscati, no? Come dire, se si finisse proprio per scelte sbagliate, no? Nella migliore dell'ipotesi a non riuscire a spendere. Perché poi che cosa succede? Questa è una cosa che in realtà noi abbiamo notato tante volte come libera. Sembra che poi si faccia la corsa a dire, ah ma i beni confiscati non funzionano. Per poter dire subito dopo, i beni confiscati non funzionano, vendiamoli. E quindi poi magari la nostra preoccupazione è che si arrivi a dire, eh guarda, vi abbiamo messo a disposizione 300 milioni di euro, non riuscite a usarli, usiamoli per altro. Cioè, e quindi il problema in realtà è come si è pensato di spendere, no? Eh queste risorse, eh molto spesso, no? Quindi a volte le cose non funzionano perché, non perché non funzionano i beni confiscati, non funziona l'idea che ammonta dei beni confiscati e che vengono decisi male i passaggi intermedi, no? Quindi la decisione proprio, a volte anche proprio del, eh, della nostra, dei nostri governi in questo caso, della nostra politica, delle nostre istituzioni, insomma, e sono quelle decisioni che poi, come dire, non permettono ai beni confiscati di funzionare, eh, come dovrebbero. Quindi bisognerebbe fare, eh, tremendamente attenzione, no? Purtroppo ecco questo esempio dei beni confiscati, eh, vale un po' per tutto questo PNRR che dicevamo prima, eh, cioè dobbiamo fare attenzione su questi 235 miliardi di euro che noi vogliamo monitorare, vogliamo capire come monitorare, vogliamo fare attenzione a monitorare, ecco, vogliamo quindi metterci proprio, eh, con le antenne dritte, cominciando proprio da quelle cose che più ci stanno a cuore, come appunto i beni confiscati e tra l'altro non è un caso che si sia proprio cominciato dai beni confiscati, eh, questo piano nazionale di riprese e resilienza, quindi ecco, eh, a maggior ragione dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo essere in grado di farci ascoltare, in alcuni casi anche di gridare, eh, perché il monitoraggio civico, ma più in generale il fare attenzione ai beni comuni, eh, quindi andando anche un po' oltre l'idea del monitoraggio civico, significa a volte anche, eh, saper alzare la voce, eh, e quindi è quello che secondo me dobbiamo essere in questo momento, eh, bravi a fare. Detto questo, l'ultimo pezzetto, eh, ora non so se, eh, guardo Riccardo, eh, non so se mi vuoi aiutare tu, o lo volete che lo faccia da sole, poi io, eh, ringrazio, so che voi tra l'altro avete anche degli impegni, quindi, eh, sentitevi liberi anche di, eh, lasciarmi, eh, quando volete, perché, eh, so che, eh, appunto avete altre cose, anzi vi ringrazio di tutto questo tempo che come settore in beni confiscati di Libera, avete dedicato al Beccari di Turino, eh, al progetto più in generale Liberi di Crescere, appunto, del Piemonte, poi se volete rimanere con me, io non sono che contento, ma se volete andare, eh, sentitevi liberi. L'ultima cosa... Ti dico anche, ti dico anche dove, dove devo andare in questo momento, eh, perché lo dico non per il gusto di condividerlo, ma perché corro a Salerno, in una scuola delle due che stanno seguendo il progetto Liberi di Crescere per un momento d'incontro con le studentesse e gli studenti, presentiamo un libro e facciamo un po' una chiacchierata che sta dentro, eh, il percorso di Liberi di Crescere. Intanto, quindi, per questo vi saluto, lascio a te le conclusioni, insomma, raccogliere anche un po' i frutti di questo incontro e ti dico, vale per me, ma vale sicuramente anche per Tatiana e per tutti noi, ci sarà un piacere incontrarci anche nuovamente se necessario e magari perché no, qualche volta anche di persona. Grazie Riccardo e allora buon percorso e buon incontro con le scuole. Ciao. Ciao. Anche tu Tatiana vai, giusto? Io sì, vi saluto anch'io, scusateci se non rimaniamo con voi fino all'ultimo, ma sappiamo che Leonardo vi darà bene tutte le informazioni utili e comunque chiamate me e Riccardo in qualsiasi momento, lo sapete, insomma, noi siamo qua per aiutarvi e per sostenervi nel percorso per cui siamo dei compagni di viaggio a tutti gli effetti, quando volete ehm ci rivediamo in video perché purtroppo non siamo fisicamente a Torino e ci eh ci confrontiamo con tutti voi e io vi rilancio la sfida di Leo e quindi vi aspettiamo per fare rimandati Piemonte, contiamo sulle vostre forze per provare a a a scrivere un capitolo nuovo di questo libro e eh non vediamo l'ora per cui ecco vi vi aspettiamo nella parte di investigatori e di scrittori per fare insieme un passo in avanti e intanto buona continuazione e buona fine di di lezione se ci guarderete durante le vostre lezioni e soprattutto buon monitoraggio. Ciao Tatiana, ciao Riccardo. Ciao, a presto, ciao. A presto, ciao. Ragazzi e ragazze appunto in quest'ultimo tempo dove resta solamente io vi farò eh vedere gli strumenti che potrete utilizzare nelle vostre passeggiate di monitoraggio che cominceranno proprio dopo questo ciclo di seminari e per quelle domande di accesso civico che potrete fare anche eh durante il tempo scolastico eh proprio rivolte al vostro comune. Vi faccio vedere il primo eh di questi strumenti se eh sarò abbastanza bravo con la tecnologia ma credo proprio di riuscire. Eccolo qua. Il primo strumento eh si chiama escili bene. Escili bene voi eh dove lo trovate? Eh trovate escili bene andando sul sito confiscatibene.it no? Vedete? Vi faccio vedere i passaggi in tempo reale confiscatibene.it sotto strumenti. Trovate questo chiedi ai comuni e vi si apre appunto questa pagina escili bene. Abbiamo voluto utilizzare questa espressione colloquiale no? Eh dove appunto bene sta per beni confiscati e bene sta anche come giudizio dicendo mi raccomando pubblica questo elenco dei beni confiscati nel modo giusto. Eh quando Riccardo vi parlava di domanda di accesso civico eh semplice vuol dire che noi possiamo chiedere un qualcosa che obbligatoriamente eh lo Stato deve eh mettere online. Il cosiddetto accesso generalizzato è quell'accesso di eh tutti gli altri dati che non sono obbligatori non devono essere essere non devono essere messi online obbligatoriamente ma che nulla osta che siano pubblicati se c'è appunto una domanda cosiddetta appunto una domanda da parte di qualcuno e quindi cosiddetta domanda di accesso civico generalizzato o cosiddetto anche FOIA è un acronimo che sta per Freedom of Information Act ma non perdiamoci troppo in questa cosa. Ritorniamo quindi a Escilibene questo nome diciamo che ne abbiamo eh eh dato appunto leggete da voi ecco chiedere l'elenco dei beni confiscati e destinati al tuo comune. Eh non è mai stato eh così semplice. Come si fa? Si fa in due modi. Da un lato ecco voi potete selezionare qui il vostro comune. Ora io eh farò finta di non andare su un sito eh su un comune piemontese perché eh mi piacerà invece che lo facciate voi. Per esempio vado sul comune di Gioia Tauro e eh clicco crea richiesta. Automaticamente come potete vedere automaticamente il servizio eh la diciamo ehm il sito mi genera la domanda ecco richiesta di accesso civico semplice. Mi chiede chi sono fondamentalmente perché tutte le domande di accesso civico in generale sono eh nominali cioè riguardano una singola persona eh e poi io cliccando diciamo avanti eh ora il servizio ecco non lo fa ma vi faccio un esempio appunto Leonardo Ferrante ora non metto la mia data eh però ecco giusto proprio per farvi capire eccetera 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 vediamo se riesce a eh a farmelo oppure no mi dirà che ho sbagliato qualcosa probabilmente sì esatto no città Torino ecco eh no evidentemente sei reso conto che il mio codice fiscale non fa bene aspetta vi rimetterò quello mio corretto. automaticamente mi genera come vedete la domanda di accesso civico. Vedete? Quindi questo è io Leonardo Ferrante chiedo eh appunto ai sensi dell'articolo quarantotto no quello che ci diceva Riccardo prima la la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente per gli immobili è l'elenco in formato aperto dei beni confiscati. Voi che cosa potete fare? Potete stampare questo documento e mandarlo vedete in questo caso per esempio c'è la mail che è una pecca attenzione una pecca si può scrivere solamente via pecca quindi perché no utilizzate magari la pecca del beccari no possiamo provare oppure magari eh se qualcuno qualche genitore può avere una pecca no ci facciamo magari o la stessa professoressa possiamo aiutare facciamo aiutare da questo punto di vista quindi lo mandiamo a questa mail. In alternativa potete anche trovare sul sito di Gioia Tauro l'indirizzo del responsabile di prevenzione della corruzione responsabile di prevenzione della corruzione no? A cui appunto mandare questa istanza di accesso civico. Attenzione il sistema come vedete come vedete non è ehm automatico quindi voi tra l'altro cliccando download istruzioni automaticamente insomma vi eh uscirà eh per filo e per segno tutto quello che dovete fare per mandare questa domanda di accesso civico. Attenzione ad una cosa ovviamente a che cosa? L'accesso civico lo si fa se il mio comune non ha pubblicato oppure ha pubblicato in forme non aggiornate non complete non corrette l'elenco dei beni confiscati. D'accordo? Ad ogni modo ripeto cioè nel caso in cui il comune l'elenco lo ha pubblicato una domanda di accesso civico serve a poco però vi vi dico un segreto. La legge prevede che questo eh documento sia pubblicato ogni mese. Vi assicuro che non esiste in Italia un comune che aggiorna questo elenco mensilmente. Ragione per cui se volete fare una domanda di accesso civico al vostro comune sentitevi liberi di farla. Attenzione però ovviamente questa sembra una cosa banale non tutti i comuni hanno beni confiscati eh per quello voi troverete nell'elenco di confiscati bene 2.0 solamente quei comuni al cui patrimonio sono trasferiti beni confiscati o comunque eh poi vi aiuteremo noi una volta in più eh da questo punto di vista rimaniamo a disposizione anche tramite Libera Piemonte o tramite eh il progetto Common. Quindi nel momento in cui vorrete fare queste domande di accesso civico vi aiuteremo noi eh a capire come farle. Ripeto non solo ai vostri comuni ma a tutti i comuni del Piemonte. Guardate una volta mi ha chiamato un ragazzo alle undici di sera per dirmi sai eh la nostra domanda di accesso civico ha avuto un esito positivo mi sono sentito forte mi sono sentito di poter cambiare le cose ecco questa è la bellezza del monitoraggio civico no? Cioè rendere trasparente rendere di tutti un dato che prima non era di tutti e noi dobbiamo riuscire proprio a fare questa piccola trasformazione questa piccola rivoluzione eh dobbiamo proprio riuscire a generare questo piccolo cambiamento sui dati poter arrivare a dire che in Piemonte abbiamo tutti i dati sui beni confiscati grazie a voi grazie a Beccari grazie a Libera Piemonte no? Questo è il tentativo che sicuramente eh possiamo provare a fare. Il secondo strumento che vi vado a far vedere è la scheda di monitoraggio come eh vi dicevo allora la scheda di monitoraggio invece la troviamo qui verifico solamente che ok adesso voi la state vedendo allora vi manderemo manderemo appunto tramite eh la vostra docente la professoressa Mela che si occupa appunto eh del progetto liberi di crescere di questo percorso dell'educazione civica questa scheda di monitoraggio dei beni confiscati che vuol dire vuol dire che quando domani quindi un conto l'abbiamo visto non ci torniamo più sul discorso dei dati c'è l'accesso civico ma anche noi possiamo produrre dei dati sui beni confiscati cioè sullo stato sulla vita di un bene confiscato quindi su una pratica dell'utilizzo eh? E come si fa con questa scheda di monitoraggio civico vedete in questa scheda c'è scritto tutto anzitutto voi dovete prendere ehm dovete selezionare il percorso da cittadino monitorante perché ciascuno di noi è una cittadina un cittadino monitorante in questo progetto no? E quindi noi vi spieghiamo per filo e per segno in questa scheda in questo documento che cosa potete fare per aiutarci a raccogliere dati su che cosa sta accadendo sui beni confiscati eh? Allora vedete prima cosa il bene è riutilizzato o non riutilizzato? Sembra una domanda scema però attenzione non tutti i beni sono ad oggi riutilizzati voi andrete a visitare beni chiaramente riutilizzati quindi in questo caso per voi la risposta è scontata ma così non è perché se voi poi volete fare questo lavoro magari su tutti i beni confiscati del Piemonte beh potrà accadere che vi renderete conto che ci sono beni semplicemente non riutilizzati d'accordo? Poi vedete qui informazioni catastali e geografiche sul bene no? Regione, provincia, comune, indirizzo. Sembra una cosa sciocca scrivere l'indirizzo di un bene confiscato ma vi faccio un esempio noi una volta eravamo a Isola Caporizzuto in Calabria avevamo seguito il sito dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati all'indirizzo. Beh eravamo entrati in casa di una vecchina che non c'entrava niente con i beni confiscati poi abbiamo scoperto che era l'Agenzia Nazionale che aveva sbagliato a mettere il numero civico invece del numero 34 avevamo messo il numero 35 con la differenza che noi invece che andare in un bene confiscato ci eravamo ritrovati a casa di una vecchina che non c'entrava niente capite no? Ecco perché è anche importante questo tipo di verifica che è sempre una scema sciocca banale ma che in realtà ci permette appunto di essere quanto più chiari nelle cose. Tipologia di bene, unità immobiliare per usare abitazione, destinazione commerciale industriale, terreno, alloggio sui collettivi, altra unità immobiliare. Anche qui parlatene tra di voi mi viene da dire. Ora provate a capire tra di voi se il bene che andate a che cosa di più tra queste voci il bene confiscato e che andate a visitare la pratica di rutilizzo a che tipologia corrisponde e a che sodo tipologia corrisponde. Ecco mi raccomando all'inizio provate a redigere questa scheda da soli e so che in Italia da soli vuol dire almeno in coppia. No, da soli e soli, uno alla volta. Quindi ciascuno con la sua scheda di monitoraggio nel visitare il bene confiscato potrà ecco andare proprio a riempire questi campi. Vedete queste sono tutte le sottotipologie che vi stavo raccontando dei beni. Categoria catastale, anche qui magari non vi sarà immediatamente facile, ma come si fa? Chiedetelo al soggetto gestore. Scusami soggetto gestore, sai la categoria catastale di questo posto? Sì, no, boh, forse. Ecco, vedete questo però ci, come vi raccontavo prima Tatiana, pian piano vi trasforma in investigatori, in cittadini monitoranti, in capire come raccogliere, da chi farci dire queste cose, da chi farci dare questi dati. Ed è molto importante capire che più che dare noi risposte, dobbiamo capire a chi fare le giuste domande. Poi qui descrizione stesa del bene, come vedete vi abbiamo dato tante righe proprio per spiegarci che cosa voi vedete sul bene confiscato. No, poi qui, ripeto, queste cose tornano un po' anche su latitudine e longitudine. Come posso prendere queste informazioni? Beh, anche sul cellulare, no? I cellulari, se io faccio la posizione, la posizione la trovo tramite le coordinate che il cellulare mi dà. E questo per esempio è importantissimo, perché permette la geodeferenziazione su una mappa di un bene confiscato. Informazioni sull'iter giudiziario del bene, anche qui, a chi le devo chiedere queste cose? Le devo chiedere al soggetto gestore. Qui comincia, aspetta, forse vi ho detto una sciocchezza. No, descrizione stesa del bene torna qui, quindi no, qui non dovete scrivere nulla, è solo, è nato giù nel testo, vi ho detto una sciocchezza, perché dovete riempire questi campi che vedete più in grigio. Quindi informazioni sull'iter giudiziario del bene, ripeto, a chi le chiedo? Al soggetto gestore. Vedete come non è solo un ascolto, diventa anche a tutti gli effetti un'intervista. Magari fatevi dire dal soggetto gestore, vedete, tipologia di procedura, procedimento penale, misura di prevenzione. Noi non abbiamo parlato, ma sono sicuro che è uscito durante gli interventi. Le altre sei ore, poveri voi, che avete dovuto vedere, più le due nostre otto ore, il che vi candida alla santità. Numero sentenza di confisca, data della confisca, ufficio distretto, ulteriori informazioni, quindi tutto quello che potete prendere intervistando un soggetto gestore in merito all'ite giudiziario del bene. Per esempio, un'ulteriore informazione in più, che purtroppo è molto difficile avere su un bene confiscato, è a chi è stato confiscato questo bene? C'è un problema di privacy, però è molto importante sapere a chi vengono confiscati, i beni confiscati. Quota della confisca, che cosa vuol dire? Vuol dire che magari un bene non è confiscato al 100%, un palazzo può essere confiscato al 75%, vuol dire una casa, c'è una struttura, quindi vuol dire che parte di quel bene resta ancora nella disponibilità di qualcuno, qualcun altro. Si potrebbero dire tante cose su questo, però gravami sul bene vuol dire se magari ci sono ipoteche, ancora una volta tutte queste cose voi le potete chiedere al soggetto gestore. Informazioni sull'iter del bene, è destinato, è uscito dalla gestione, è in gestione, tutte queste parole, che cosa vogliono dire in gestione, è destinato, è uscito dalla gestione, chiedetele al soggetto gestore. K bene è una cosa un pochino complicata, se mi saprà rispondere il soggetto gestore va bene, altrimenti lasciatelo vuoto. La destinazione, la data in cui c'è il decreto delle destinazioni, chiedete al soggetto gestore, il numero di protocollo, il link. Ora, non preoccupatevi se non trovate tutte queste informazioni. Attenzione che alcune di queste informazioni potrete poi raccoglierle a scuola dopo. Andiamoci a cercare il decreto di destinazione di questo bene confiscato. Googliamo, cerchiamo sul sito dell'agenzia, proviamoci. Guardate, il cittadino monitorante fa così, non è detto che sappia dove quel dato lo cerca. Ecco, a chi è stato destinato questo bene, vedete appunto tutte queste possibilità, molte delle cose vi torneranno, ripeto, dalle cose che abbiamo detto noi, se no diventa un po' difficile provare a riempire questo documento. Anche qui, ripeto, non preoccupatevi di riempire tutti questi campi, anche perché, ripeto, alcuni di questi campi vi devono arrivare da risposta del soggetto gestore che non è detto che ne abbia sempre la conoscenza. Però anche questa domanda. Finanziamenti ricevuti dall'ente locale, cioè, sono mai arrivati dei soldi per ristrutturare questo bene confiscato. Sì, no. Perché? Perché cosa? E poi, ecco, assegnazione del bene, no? Quindi il bene, e quindi, che cosa? Chi è? Ecco, ancora una volta, ecco, finalmente, questa soprattutto è la parte che noi vogliamo che voi riempiate. Chi è il soggetto gestore? Cioè, chi è il soggetto gestore? È la persona a cui viene affidata la cura, appunto, la gestione di questo bene confiscato. Come si chiama? La ragione sociale, cioè, chi è che fa di lavoro? Significa, loro ve lo sapranno dire. Che attività fa? Che finalità? Che finanziamenti, appunto, stanno avendo? La montagna del finanziamento? Vedete che cosa fanno? Quante persone vengono impiegate? Se ci sono volontari? Foto del bene, evidentemente qui, evidentemente, servono i vostri cellulari. Attività svolte, che cosa fanno su questo bene confiscato? Loro ve lo racconteranno. Ecco, chiedetelo anche voi. Commenti e impressioni vostre? Il bene come sta? Qual è la vostra impressione rispetto a questo bene confiscato? È tornato effettivamente alla qualittività? Si può utilizzare di meno, di più, diversamente, no? Ecco, mi raccomando, non siate scioccamente critici, anzi valorizzate il lavoro pure di tantissime persone che si spendono su beni confiscati. Mentre, appunto, per questa quinta parte era proprio quella che vi raccontavamo, invece su amministrazione trasparente è l'elenco, quindi ci ricolleghiamo di nuovo, appunto, a quel portale lì. D'accordo? Quindi questo è, ecco, e poi infine chi siete? Ecco, compilare quindi questa scheda anche relativamente a le persone che, appunto, hanno fatto questa scheda di monitoraggio. Fatta questa scheda di monitoraggio, vi ripeto, non è importante che la riempiate in ogni punto, non è importante che sappiate esattamente che cosa vuol dire ogni punto di questa scheda. Per voi è una traccia generalissima che vi aiuta a capire che potete monitorare un bene confiscato, che potete fare delle domande a un soggetto gestore, che potete andare in amministrazione trasparente a vedere se c'è o non c'è l'elenco e se non c'è, come abbiamo visto prima, chiedere il dato. D'accordo? Questo è essere un cittadino monitorante dei beni confiscati, questo è il lavoro che noi pensiamo che possa essere fatto davvero da tutte e da tutti. Io non vi voglio rubare più di questo tempo, perché poi aggiungere parole significa solamente aumentare la, perdere l'attenzione. Vi auguro di essere ottime cittadine e cittadini monitoranti, cominciando dai beni confiscati, cominciando dalle scuole. Perché guardate, si comincia dal bene confiscato e poi si dice, ok, io voglio monitorare la mia scuola, voglio monitorare quel bene comune che vedo abbandonato a cinque palmi dal mio naso, che sta sotto casa mia. Voglio monitorare quella strada piena di buche, voglio monitorare quel parco, voglio monitorare la mia città, come spende la mia città, voglio monitorare il mio quartiere. E guardate, credetemi che monitorare è il modo migliore per essere inquieti, ma mettendo quell'inquietudine a servizio degli altri. Questo è l'augurio che io, che noi, ecco sicuramente a nome anche di Tatiana e di Riccardo, vi sentiamo di fare e non ci resta che salutarvi e aspettarvi a questo punto sui beni confiscati. Grazie e ciao.